La raccolta differenziata è certamente una attività, un procedimento particolarmente complesso, oltre che tecnicamente per quanto riguarda la forma mentis, l'educazione, perché il cittadino deve uniformarsi a questo nuovo modus vivendi. Ne parliamo con l'avvocato Giampiero Mancarelli che è presidente del CDA di Chima Ambiente Amio. Una difficoltà, anzi più difficoltà non semplici da superare, ma poi parleremo anche di alcune iniziative proprio di educazione civica, oserei dire, che sono finalizzate a questa capacità di entrare in una nuova dimensione. Si diceva bene una nuova dimensione, ecco passare dalla raccolta indifferenziata alla raccolta differenziata richiede innanzitutto uno sforzo da parte dei cittadini. Quindi come bene diceva il cambio di forma mentis, noi stiamo partendo insieme agli assessorati all'ambiente e alla pubblica istruzione a fare intervenire nelle scuole questo cambiamento di idea, stiamo raccogliendo molta partecipazione, certo le restrizioni Covid ci impediscono di dispiegare tutta l'attività che avremmo voluto svolgere, nel prossimo anno lo faremo, ma soprattutto stiamo cercando di inculcare nel cittadino l'idea che oltre ad essere un vantaggio per l'ambiente lo sarà anche dal punto di vista economico, perché se noi riusciremo ad avere dei range importanti come quelli che abbiamo avuto nei primi mesi ai Tamburi e a Paolo VI, potremmo avere anche una riduzione significativa della raccolta. Alle mie spalle, prima di realizzare l'intervista, notavo questa foto in cui c'è lei presidente, un'operatrice della polizia locale, una vigilessa, e ce l'ha scritta, grazie agli abitanti di via Leopardi, quartiere Tamburi, sono stati individuati i responsabili. In buona sostanza una famiglia si era trasferita, mi pare di capire, e aveva accatastato lì giù tutti i mobili che evidentemente non servivano più. Al che c'è stata la sua posizione come presidente di Chimambiente Amio e il presidente ha detto, io i mobili di qui non si spostano fin quando non risaliremo a chi ha compiuto questo gesto di abbandonarli qui. Ora, non per un giustizialismo, per fare gli sceriffi, ma per una forma proprio di educazione, di responsabilizzazione. Com'è andata questa storia alla fine? Assolutamente sì, dice bene, la responsabilizzazione civica e i cittadini davvero ci hanno aiutati, ci hanno scritto davvero, abbiamo avuto 13 segnalazioni che ci hanno individuato in maniera univoca i responsabili e quindi come bene diceva sono stati messi giù nel largo lì di via Leopardi una serie veramente indefinita di mobili e noi quindi abbiamo trovato i responsabili e grazie alla sinergia con la polizia municipale e i nostri ispettori ambientali abbiamo potuto elevare a sei di loro che sono gli eredi che avevano quindi posto in essere questa... Qui il problema è quando magari c'è un anziano che passa miglior vita e gli eredi magari quando proprio la proprietà è divisa tra più eredi diventa un problema e molte volte purtroppo si arriva a queste soluzioni di svuotare la casa e buttare via i mobili. Assolutamente sì, purtroppo si è stata elevata la sanzione di 500 euro cada uno quindi sono 3000 euro, noi chiediamo quindi di partecipare quando ci sono anche questi eventi e chiamare gratuitamente all'800 013 739 che è il nostro numero verde che consente di avere gli operatori gratuitamente presso il proprio domicilio a liberare quindi queste situazioni.